Mi sono occupata dell'autodifesa, mi sono sfogata e adesso è il momento della femminilità. Mi sono preparata, mi voglio truccare, voi sapete che con Guvi siamo usciti con questi meravigliosi fondi, 20 colori, per tutte le carnagioni. Stanno andando di brutto perché sono fondi curativi, assolutamente matt, ma lasciano la pelle idratata e illuminata. Abbiamo un primer fantastico che se lo mettete sotto vi dà quel glow inenarrabile, lo potete anche usare per uscire, ma anche per il giorno. Questi sono dei fondi che sfumati rendono proprio in una maniera super 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 naturale. Io vado al fondo 6, 06, questo è il mio colore che io uso every day e se voglio divertirmi uso anche il 04 per la zona, diciamo, dello qua intorno all'occhio, però questo è già più tecnico, diciamo. Io durante la giornata uso quasi sempre solo 06 perché questi sono fondi e correttori insieme. Quindi divertitevi, andate sullo Shade Finder, perché non è una parolaccia, ma andate a cliccare sul sito e trovate proprio la vostra carnagione e troverete proprio esattamente il numero che necessitate. Vi mando un bacio, dopo vi faccio vedere l'effetto finale. Pennellino di Guvi che ho fatto fare apposta per voi perché io mi ci trovo da Dio, nel senso che così potete stendere il vostro fondo senza sporcarvi le manine. Allora adesso guardate che bello, eh? Metto lo 06, 06 sì, 06 e lo metto prima, nel mio caso lo metto qua sulle guanciotte perché io qui sono un pochino macchiata e quindi mi piace togliere l'effetto macchia con il mio fondo. Ovviamente se voi lo mettete così lo sfumate bene anche sul collo, come dice la Barenghi, ricordatevi sempre le orecchie. Il mio è talmente perfetto come colore che neanche si vede la differenza, però guardate come uniforma e come è bello. Poi metto un po' qui, un po' qui e un po' qui e basta ed è già finito. I metto questa perfetto marvellosa girl in questo perfetto meraviglioso place.